oggi facciamo insieme una ciambella profumata e morbidissima alla liquirizia ci occorrono tre uova medie a temperatura ambiente e 160 grammi di zucchero di canna e lavoriamo con le fruste devono triplicare in 100 ml di acqua aggiungiamo 80 ml di olio di semi e 40 grammi di polvere di liquirizia e mescoliamo con un cucchiaio aggiungiamo il composto alla liquirizia alle uova montate e mescoliamo ora aggiungiamo 280 grammi di farina 00 setacciata e anche una bustina di lievito per dolci sempre setacciato lavoriamo altri due minuti con le fruste e versiamo l'impasto denso liscio e profumato in uno stampo da 22 cm imburrato e infarinato andiamo a cuocere la nostra ciambella per 45 minuti a 160 gradi statico in forno già caldo mi raccomando e fate sempre la prova secchino se anche questa ricetta ti è piaciuta iscriviti al canale attiva la campanella e condividi con amici e parenti ciao 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 ciao